Hola compagniere Squigible, benvenuti sul mio canale Oggi ho anche la webcam, speriamo che il mio pc non muoia Ed eccoci qui con Outlast Il gioco che sta provocando turbe mentali e notti insonni a molti videogiocatori Eccoci qua, allora oggi contrariamente dalla volta scorsa sto giocando Ehm Di mattino, cioè non di mattino, comunque durante il giorno Perché Se no Allora, noi non eravamo propriamente qua però Oh, questa non l'avevo preso Vabbè amo Abbassiamo un po' l'audio Allora Abbassiamo un po' il settaggio dell'audio Un piccino CPC Conferma Come sempre la grafica è Bassa perché sono col portatile Io a te non ti guardo Anzi guardo questa bella presa di corrente Molto interessante Dai buono tu eh mi raccomando bravo Allora ok Sono andato fino là in fondo e non c'era niente Ti immagino che devo Dover andare per forza qua dentro Oddio Ciao belli Oh interessante questo Però La versione che ho visto io aveva lo schizzo di sangue Dall'altro lato Oh te sei proprio Insomma ciao Tu stai tranquillo tu eh Mi raccomando Passiamo qua sotto Che c'è C'è una porta Questa Questa sarà chiusa Yes Sempre meglio guardare Eccoci qua Oh buongiorno Mi schiaccia un pisolino qui eh Bravo Oh Mi serviva proprio questa Qui Ah c'è un altro con un pisolino Oh ma c'è C'è qualcosa Dai Ah non posso prenderla Aspetta Ciao Ciao Ti rubo questa che a te non interessa eh Bravo Grandissimo Oh buongiorno Oh buongiorno Salve Sono sempre io State tranquilli Non vi disturberò più Me ne vado Me ne vado Tranquilli eh Secondo me il colpevole è la macchia di sangue Poi Non lo so Ciao guardate guardate Ecco Posto Te sei sempre buono Te stai buono Stai buono? No che lo stai buono Bastardo Ma vaffanculo Ma che devo aiutarmi Ma vaffanculo Ma aiuta me Non te Via Via Cazzo Cazzo Porca croia Sto guardando fuori che oggi c'è la giardiniere Che se Mi vede Mi sembra che Gritare Magari Penso che io sia pazzo Ma io non sono pazzo Ragazzi Oh Ancora tu là in fondo Vaffanculo Vai dentro la sala E vattene Qua ci sono sempre i miei amici Adesso che abbiamo la chiave Possiamo andare qua dentro Security Sono io Grazie Non c'è niente da prendere No Ok Go Andiamo Madonna se siamo lenti No No Prete Non ci provare No Prete Non farlo Cazzo Oddio Oddio Sotto qualcosa Vai dentro Cazzo Sotto qualcosa Oh cazzo 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 Porca puttana C'è C'è il bestione gigante Merda Questo qui Sam'annusa No Non ci sono No No E no No Vai Vai via Vai via Vattene E dai Non posso stare qui Tutto il gameplay E dai 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 Quel naso ti serve per bellezza Mi sa Cazzo Via 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 Poca troia ma è tutto buio adesso Merda Oh la porta è aperta Buono cioè buono un cazzo Andiamo di Ah la musica Qualcos'altro Grande Leggiamo Mercoledì 10 febbraio 54 Lavori di ricerca e sperimentazione sull'ipnosi Sono proseguiti nell'edificio 13 di Sera Ok è stata indotta una suggestione Postipnotica della notte precedente Quando puntarò al dito ti addormenterai Le signorie a Jackson e P sono cadute Immediatamente in un profondo sonno ipnotico Senza bisogno di ulteriori influenze esterne A quel punto la signorina P Si è stato ordinato in quanto il precedente Aveva dichiarato di temere qualsiasi tipo di arma da fuoco O di usare qualsiasi mezzo a sua disposizione Per svegliare la signorina Jackson Che si trovava in uno stato di profondo sonno ipnotico In caso di fallimento avrebbe dovuto impegnare La pistola che si trovava nelle sue vicinanze Per svegliare la signorina Jackson Le è stato detto che la sua rabbia per non essere riuscita a svegliarla Sarebbe stata così fatta e non farla provare a qualità La verucità La signorina Jackson Basta Ho già sprecato tempo Dai mi sono ripreso andiamo Porca proia di qua Mi sa che è ancora peggio Oh Nessuno Stai calmo C'è qualcuno? Spero di no Ecco Attiva le due pompe del gas C'è l'interruttore Ciao bello Allora qua dentro Ok Una pila Oh qua c'è un generatore Buono Adesso non mi fregate più Non sono scemo Sono sicuro che arriva qualcuno E infatti Mi troverai mai Un belotto squilibrato Dov'è? Dai muovi il culo che devo andare ad aprire Ad aprire Ad attivare un'altra pompa Oh Dio Oh Dio arriva Devo andare ad attivare un'altra pompa Oh porca troia Porca puttana se sei brutto Dai Non c'è nessuno Ecco Esatto Adesso aspettiamo qualche secondo Prima di andare Perché Se no Mi prende Sarà andato via Non è che è dietro Ah no C'è nessuno faccio un'altra scala ma anche io qui dove mi nascondo oh mio dio mio dio mio dio mio dio oh cazzo lì no 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 oh che culo vai via porca troia eccole là è là è là lo vedo via 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 proviamo a vedere di qua cazzo c'è un cadavere qui ho una pila merda sono in un vicolo cieco forse di qua merda merda ragazzi secondo me arriva e non mi muovo di qui finché non arriva forse è deficiente non arriva dai che se ne sia andato cazzo 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 ma te dovevo proprio uscire prima di che ti voglio ti voglio vai via non ti voglio salve salve cacchio 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 dov'è 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 oh è lì è lì è lì ecco vai via vai via porca puttana sei andato? speriamo oddio 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 oh mio dio oddio oddio scappa scappa di qua vai 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 Vaffanculo Oddio Porca puttana Time more Lag Pazzesco lag Bravo Bravo Affanculo sorry Dio se sei brutto però Ma io non voglio vedere niente Io voglio andarmene da qui Cosa Wall Rider Chi è Wall Rider Oh Cazzo Cazzo Ma te sei fuori Se non ce l'ha fatta una squadra SWAT Come pretendi che ce la faccia io Che sono un misero giornalista Con una cazzo Di cinepresa Grande così Oh eccoci Bel posto Confortevole Pittoresco Oh bene C'è la telecamera Eh allora sono 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 già a posto Allora che cazzo Che cazzo devo fare Oh c'è una nota Vediamo la nota Padre Marty mi ha lasciato qui per mostrarmi qualcosa Secondo lui sarò testimone di chissà quale stronzata Non so cosa vuole farmi Questo dottor Verniche È la causa di quel che è successo a questo posto Ah ma è morto più di dieci anni fa Sul muro c'è scritto Riposa in pace Dove sul muro? He did not kill his enemy Resti Resti in peace Ma non c'è tipo un viva la figa Qualcosa di interessante No Oh Oddio che cazzo sei Grazie bello Non scappare Siamo amici Oh mio dio Ma porca puttana Ma io torno dentro Ma chi cazzo me lo fa fare Di andare lì Oh Ragazzi Io mi fermo qua Il pc sta per esplodere Io sono giunto al limite Per quest'oggi Ci vediamo alla prossima Ciao